Un operaio di 55 anni è morto, schiacciato da un masso di marmo in una cava dell'Alta Garfagnana nel comprensorio Orto di Donna a Minucciano. Non c'è stato niente da fare per Antonio Ugo Orsi di Gorfigliano, che poco prima delle 8 di mattina, per cause ancora tutte da chiarire, è stato travolto in un punto impervio della cava da un blocco che si sarebbe staccato all'improvviso dalla parte inferiore di una lastra di marmo e lo avrebbe colpito in pieno tra la testa e la schiena. Orsi, che lavorava nella cava da 8 anni, è deceduto sul colpo. I colleghi hanno subito dato l'allarme, ma quando è intervenuto l'elisoccorso non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli operatori del Dipartimento della Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Le cause della tragedia sono al vaglio dei carabinieri. La cava è stata posta sotto sequestro. Sulla vicenda la procura di Lucca aprirà un'inchiesta per omicidio colposo. Il sostituto procuratore, Alberto Dello Iacono, che sta seguendo il caso, deciderà nelle prossime ore se disporre l'autopsia o un esame esterno per accertare la causa del decesso dell'uomo. Orsi lascia la compagna e tre figli, uno dei quali è anche lui operario in una cava.